amici di motosport.com ciao a tutti siamo dopo il gran premio di francia e cerchiamo in questo report di formula 1 di fare un'analisi di quella che è stata la gara al port ricard con il nostro inviato roberto chincoro appena rientrato dal port ricard esattamente come il nostro esperto di tecnica giorgio piola intanto grazie di essere già qui dopo una lunga trasferta e cerchiamo di inquadrare cosa significa questo gran premio di francia all'interno del mondiale a te roberto ma se mi ricordo un po franco quello il gran premio di bacu dello scorso anno quando emilton con l'errore in partenza si giocò buttò via 25 punti che poi purtroppo gli sono costati il titolo mondiale purtroppo per lui eravamo abituati o meglio ci eravamo fatti un'idea di un mondiale in cui ritrovata la forma tecnica la ferrari era pronta a rosicchiare punto per punto quello che era il vantaggio che si costruito max verstappen e la red bull e invece di colpo è arrivato un passivo di 25 di 25 punti questo cambia drasticamente lo scenario e e oggi francamente diventa difficile pensare o immaginare uno scenario nel quale la ferrari e le clerk saranno in grado di andare a recuperare più di 60 punti è vero che negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere sorprese a vedere colpi di scena quindi bisogna lasciare aperta una finestra anche a questa possibilità però all'indomani del del gran premio di francia io credo che la lotta per il titolo mondiale piloti abbia preso una direzione ben precisa richelieu binotto io adesso gli attribuisco questo soprannome perché secondo me è un finissimo politico che riesce ad avere il controllo della situazione devo dire anche a condizionare molto quello che è la percezione mediatica per quello che poi vengono raccontati i fatti ferraristi ha è intervenuto immediatamente a favore a difesa dell'errore di le clerk ed è giusto per quello che riguarda l'essere un team principal anche se immaginandomi in un ruolo simile steiner non so che cosa sarebbe venuto fuori dalla bocca del nostro amico però io l'analisi che volevo fare è c'è una tendenza a mettere la luce sull'errore gravissimo ma a giustificare il pilota io invece ho trovato una statistica che invece identifica le clerk 92 gran premi disputati 25 per cento di errori ed è una percentuale per un campione campionissimo molto molto alta mi spiego meglio 17 ritiri 12 per incidenti e 5 per rottura 12 incidenti sono tanta roba in una sequenza dove c'erano in mezzo stagioni come la 20 21 che non contava assolutamente niente ma ora c'è un discorso che va nella direzione di chi sta lottando per un mondiale roby è una analisi finestra troppo dura per un campione come le clerk o è la dimostrazione che forse lo scatto che max verstappen è riuscito a fare lottando con luis hamilton charles ancora non è riuscito a fare lottando con max verstappen ma allora di base credo che partiamo da verstappen chiaramente lui ha maggiore esperienza e che esperienza si fa lo scorso anno nella lotta al vertice e nella lotta per il titolo mondiale cioè da candidato al titolo mondiale le clerk è il primo anno che lotta per il titolo mondiale e io credo che negli anni scorsi sono interessanti numeri che hai citato lui spesso provava a tirar fuori come si dice il cento un per cento dalla macchina ci andava veramente al limite perché di fatto non correva per il mondiale provava l'impresa di tappa provava a fare qualcosa che poteva magari anche salvare una stagione dal senso alla stagione quindi si prendeva anche dei rischi però quest'anno non può più permetterselo e credo che soprattutto non se lo possa permettere perché ha come riferimento come avversario un pilota che non sta sbagliando nulla cioè lui max al momento non ha perso un solo punto legato alla sua guida questo è un riferimento tosto per tutti gli avversari in questo caso soprattutto per le clerk che il suo avversario diretto è chiaro che letta così è un limite di shark questo è in dubbio poi tu dicevi c'è un po la tendenza anche in questo momento a giustamente a proteggerlo a giustificarlo e e credo che binotto dati in principal lo stia lo stia facendo giustamente vuol tenere il gruppo unito non vuole che arrivi troppa pressione social c'è una gara tra pochi giorni per cui deve fare il suo lavoro però è un errore è vero sono la ferrari come se avesse già dei bonus se li fosse già un po giocati perché due rotture di motore un paio di errori strategici è chiaro che era già in in passivo in in classifica a causa di questi problemi adesso si somma anche l'errore di sciale assume un significato importantissimo perché da un potenziale recupero che poteva portare a teoricamente a meno 25 meno 28 ci si ritrova a meno 60 questo fa una differenza enorme giorgio siamo però al paradosso c'è una ferrari che va a meno 63 con le clerk da verstappen nel momento in cui esprime forse la macchina migliore del paddock incondizionatamente la più competitiva in questo momento sì difatti tutto la situazione di ieri risulta ancora più pesante proprio per questo motivo perché in un momento in cui la ferrari dovrebbe cercare di fare un bottino più pieno possibile invece è bene questa battuta d'arresto dal punto di vista tecnico veramente in questo momento la ferrari è riferimento non c'è dubbio c'è però dall'altra parte una squadra che nel suo complesso piloti gestione meccanici e tutto non non sbaglia mai ci sono stati dei problemi di affidabilità all'inizio non problemi però gravissimi risolti e sì le clerche la ferrari si trovano a lottare contro first up in una macchina da guerra che è la red bull con il fatto come diceva a roberto che first up in 2022 è un first up molto più maturo cresciuto tantissimo dopo la lotta dell'anno scorso alle clerche manca questo però credo che questo errore può forse io faccio sempre riferimento spesso a patrick ed che dice si impara molto di più quando si fanno errori che quando invece tutto va bene credo che questo errore pesante possa far maturare tantissimo anche proprio anche in breve tempo le clerche che lo abbiamo visto invece a silverstone essere molto negativo ma giustamente anche per la tattica quando ci lui era in la squadra ha fatto purtroppo delle mancanze dal punto di vista della fidabilità e della tattica e ecco le clerche in questo caso era stato decisamente duro vedendo pesantissimo questi errori adesso il fatto che anche lui ha fatto errori penso possa bilanciare meglio invece forse fare maggiore coesione con la squadra questo che io mi auguro e che quindi quindi lui da l'errore di francia risulti decisamente maturato e lo vedremo già fra sette giorni roberto la considerazione di giorgio è interessante perché porta a pensare anche sulla logica dei numeri che ho detto prima che la vessazione che si è dato la frustrazione nelle dichiarazioni del dopo ritiro sono forse anche il segno di una consapevolezza di aver capito che quei numeri pesano sulla sua carriera e che quindi deve depurare questi errori per rendere continuo un'ascesa che è indiscutibile perché sul suo talento non c'è niente da dire probabilmente questa capacità di sapere andare sempre al cento uno per cento vale le sette pole position eh che sta inannellando con una strepitosa superiorità perché poi bisogna riconoscergli anche quelli che sono i grandi meriti e credo che una delle sue capacità sia anche quella di riuscire molto rapidamente a cancellare la lavagna e ripartire da un foglio bianco come diceva Giorgio prima no su quello su quello non ho dubbi certo ma quello ce l'ha proprio nel suo dna e una sua caratteristica quella di quando inizia un weekend di gara di sapersi isolare saper fare il suo lavoro come sempre incurante anche da quella che eventualmente la pressione che gli sta gli sta torno però questa volta è un po più dura e nella sfortuna e credo sia abbastanza fortunato dal dall'opportunità di poter tornare in pista subito tra pochi giorni perché così avrà meno tempo per per pensarci e credo però che forse questo è indubbiamente l'errore più grave che è ha commesso leclerc da quando in Ferrari ma per un semplice motivo per il significato che comporta aver concluso la gara di ieri a zero punti Giorgio lo sottolineava la macchina è da primo posto in questo momento non sappiamo se lo sarà in tutte le piste rimanenti ma credo che se la andrà a giocare l'abbiamo detto tante volte ormai è questione di di decimi tra tra Red Bull e Ferrari e possono variare un decimo avvantaggio di uno dell'altro io credo che ieri la Ferrari complessivamente fosse più competitiva però ripeto partirà con la consapevolezza di avere la responsabilità di quanti punti ha detto 35 32 adesso lui ha fatto subito i calcoli sommando i punti di Imola a quelli a quelli del Pol Ricard quindi lucido da quel punto di vista subito c'è anche chi ha detto certo lui ha detto questi punti sono mia responsabilità se lo perdiamo per questi punti è colpa mia se sono di più non è solo colpa mia è anche un modo per dire adesso va bene però però sì lui è caratterialmente così è molto duro con se stesso è una sua è un suo una sua caratteristica un suo tratto caratteriale vedremo se se risponderà subito però io credo di sì anche perché e correggetemi Giorgio Franco credo che questa Ferrari ha in Ungheria su Ungerio vada per fare un risultato solo che è quello promesso da Binotto una doppietta eh Giorgio in teoria dovrebbe essere una pista favorevole alla Ferrari quindi sì e Giorgio dobbiamo sempre specificare in teoria quest'anno perché ogni volta sono sono pronti a smentirsi no? Io non l'ho sottolineato l'ho iniziato con in teoria teoria infatti è strategico dire in teoria quest'anno ecco c'è un aspetto e la domanda la faccio a entrambi con eh Charles che scende a 63 eh si libera Carlos Sainz nel senso che in Francia abbiamo visto un Carlos Sainz in grandissima forma ha preso in mano la macchina ora ne è consapevole di essere eh in grado di ottenere grande risultato nella Q2 libero ha ottenuto il secondo miglior tempo assoluto quindi eh sarebbe stato certamente in prima fila ma magari avrebbe anche lottato per la pole position al Paul Ricard eh ci ritroveremo un Carlos Sainz pungolo eh qui lo abbiamo visto strepitoso nell'offrire la scia al compagno di squadra e guadagnarsi un credito all'interno del team quasi a voler depurare tutte le le voci eh negative che gli sono state attribuite poi non per colpa sua eh più per scelte della squadra eh dopo Silverstone eh in Ungheria dove si comincia a parlare di un'aspettativa di di doppietta cosa può succedere? Ma io credo che non potranno non credo che possano chiedere dei sacrifici a Sainz eh realisticamente con due gare di vantaggio ne mancano dieci e ne ha più di due gare di vantaggio in questo momento Verstappen a due gare un terzo posto praticamente di vantaggio come fai cioè Sainz è andato molto bene io credo che il momento più bello eh forse più spettacolare sicuramente in gara però lì c'era anche una differenza di mescola il momento più impressionante di Sainz nel weekend sia stato il giro in Q2 quando ha stampato un tempo pazzesco e e lì ha confermato ricordiamo lì ha confermato ha confermato che eh lui c'era su quella pista c'era ed era in lotta per la pole e credo che in condizioni ordinarie probabilmente avrebbe ottenuto la pole ehm è dura cioè sai se Leclerc fosse stato non so a trenta punti a venti punti da 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 Verstappen con magari eh sei sette gare alla fine allora un discorso così diventa un po' dura anche chiedere a Sainz un sacrificio però io sono convinto che Sainz abbia fatto molto bene perché non aveva nulla da perdere nel dare la scia a Leclerc visto che lui comunque doveva partire in fondo quindi era diciamo un ruolo gratuito da team player eh non è che eh partecipando alla Q3 senza dare la scia a Charles sarebbe partito in prima fila lui non aveva niente da perdere di fatto non doveva neanche girare vado in pista do la scia a Leclerc adesso tutto sto gesto è simbolicamente importante però nell'economia della sua weekend di gara non è cambiato nulla diverso discorso a Budapest insomma se a Budapest non credo che sarà così accondiscendente nei confronti di di Leclerc e deve fare la sua gara io credo che forse a questo punto il mondiale costruttori possa essere forse più un obiettivo raggiungibili per la Ferrari rispetto alle chance che ha Leclerc in quello piloti a giudicare da quello che abbiamo visto eh c'è un Perez in flessione l'evoluzione della macchina va tutta in direzione delle esigenze eh di Max Verstappen togliegli il sottosterzo e sembra eh che penalizzi molto più Sergio Sergio è scomparso letteralmente ieri mentre invece registriamo un Sainz in costante crescita Giorgio eh io sono rimasto molto incuriosito ieri dal fatto che Sainz ha detto ho rinunciato alla borraccia in macchina perché eh siamo leggermente sovrappeso e tutto fa per trovare la prestazione ho preferito puntare su qualche decimo ecco ma una borraccia vale qualche decimo secondo te eh perché poi abbiamo visto eh Lewis Hamilton con la borraccia che non ha funzionato con il sistema di di idratazione e è arrivato steso per terra eh dentro la saletta prima del podio praticamente ti sei risposto perché eh la borraccia in una gara come ieri col caldo del poricare evidentemente fa tantissimo e può fare forse anche più di due o tre decimi perché alla fine se il pilota arriva evidentemente Sainz è consapevole del suo fisico del suo sistema ecco ma una borraccia in macchina vale dei decimi e beh peserà quegli 800 etti come minimo eh sarà è una borraccia fra l'altro è molto buffa perché l'unità di misura con cui eh si contano le prestazioni per me è è impazzita in Formula 1 perché io ero alla regola che dieci chili valgono tre decimi su una pista come Barcellona ok è sempre stato quello il punto di riferimento quest'anno eh se cala quattro chili una macchina guadagna due decimi uno toglie una borraccia e guadagna qualche ragazzi mettiamoci d'accordo però credo che il due o tre decimi detto da Sainz sia stato un po' buttato lì come per dire che si perde qualcosa ma non credo sia proprio da da misurare con l'efficienza e il rendimento della macchina quanto con l'efficienza della macchina e il rendimento del pilota in situazione di sofferenza capito perché credo che a quel punto ci possa essere una piccola percentuale di perdita sul giro dal fatto che guida in condizioni sfavorevole lì sarebbe sempre interessante quando ci sono queste dichiarazioni poter vedere accesso ai valori che riceve invece il dottor Ceccarelli perché mi raccontava una volta che si vede benissimo quando per esempio un pilota rallenta se rallenta perché è lui che è deconcentrato o se rallenta perché è la macchina che lo mette in difficoltà lo si vede proprio dalle sue reazioni fisiche quando si vede tutto il suo battito la pressione tutto quanto al limite vuol dire che è un problema della macchina quando rallenta e si vede le sue condizioni fisiche arrivare quasi a uno stato migliore vuol dire che non sta spingendo al massimo. Carlos verrebbe da dire che è un mezzo robot però perché ha fatto il giro più veloce al cinquantunesimo giro e quindi era nella condizione di esprimere il suo livello più alto certamente. Sicuramente lo si vede anche è fisicato è messo è messo bene lui evidentemente è consapevole molto sicuro di questo perché ti ripeto fare una scelta del genere e Mansell non avrebbe potuto assolutamente viaggiare senza Borracias veniva a metà gara evidentemente Sainz era tranquillo da questo punto di vista. Roberto allora abbiamo una Mercedes strana perché non si può definire diversamente è una Mercedes che chiude a 10 secondi sì con una SFT car dal vincitore del gran premio quindi da un punto di vista numerico ottiene un secondo posto con Lewis Hamilton un terzo con Russell quindi miglior risultato stagionale indiscutibile minor gap a testimonianza di una macchina che verrebbe da dire è cresciuta. Se però facciamo lettare mancano tre piloti che teoricamente sarebbero stati davanti poi bisogna giustamente esserci la fidabilità è una caratteristica indiscutibile eh della Mercedes eh al trecentesimo gran premio si spara un secondo posto il vecchietto Lewis sta ancora davanti a George Russell che lettura dobbiamo dare di questo weekend perché erano arrivati auto candidandosi addirittura a una possibile vittoria hanno fatto schifo sia venerdì che sabato e invece domenica hanno mostrato un potenziale che questa macchina eh è veramente eh non comprensibile poi magari ci spiegherà dal punto di vista tecnico George. Ma io guarda eh sulla c'è un dato c'è un dato tra i pochi che possiamo considerare certi su questo progetto eh V13 un dato certo la macchina va più forte in gara rispetto al al giro singolo. Ieri è andata molto forte per la per la solita caratteristica che ha cioè mettendo meno energia sulla gomma soprattutto nella seconda parte dello stint la macchina riesce a essere competitiva. Eh raccontava ieri sera a Toto Wolf che loro eh perdono mediamente tre giri eh tre secondi nei primi due giri rispetto a quello che dovrebbe essere il loro ritmo che è lo stesso problema che hanno in qualifica perché fanno fatica a scaldare la gomma quindi l'utilizzo della gomma sul giro veloce non è ottimale non la sfruttano al cento per cento però eh assume dei 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 tratti da volte quasi comici questa situazione perché eh allora giovedì come dicevi grandi proclami eh venerdì eh prima mazzata una certa delusione abbiamo del lavoro da fare sabato eh eh grandissima delusione eh dobbiamo rivedere tutto domenica grande euforia però credo che forse dopo dodici gare Wolf ha capito un po' che 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 non è il caso di smilanciarsi più con questa macchina non non si devono smilani infatti ha tirato il freno ha detto sì però sette decimi sul ritmo in alcuni in alcuni momenti la macchina non va in qualifica eh non capiamo perché su certe piste sì certe no insomma ha voluto raffreddare un po' gli entusiasmi in vista del del di Budapest Franco l'unica certezza che abbiamo è che questa macchina è la terza forza poi eh sul fatto che possa vincere un gran premio mi sembra che sia una valutazione eh basata su delle circostanze eccezionali come quelle che hanno portato alla visita di Ocon lo scorso anno ma non credo che di potenziale questa macchina possa vincere un gran premio perché a meno che non si vada a sposare veramente molto bene in alcune circostanze con quelle che sono la pista e le condizioni semplicemente perché comunque non arriva ad essere performante come Red Bull e come Ferrari si avvicina però poi l'ultimo step non credo ci sia Giorgio tu che lettura dai Concordo perfettamente con quello che ha detto Roberto è la terza forza ma la vittoria per conto mio come ha detto Roberto potrebbe arrivare soltanto in circostanze eccezionali non dimentichiamoci che ieri avrebbero dovuto avere in teoria se parliamo di di competitività di macchina altre due macchine davanti le due Ferrari quindi il terzo posto come minimo il terzo posto di il secondo posto di Hamilton sarebbe stato decisamente indietro di due posizioni perché sicuramente la Mercedes non è in grado di avere il ritmo ma soprattutto quello che disorienta un po' che abbiamo visto nelle prove fare tutti gli esperimenti possibili la macchina di Hamilton con più carico fino a FP3 poi passare all'improvviso allo stesso meno carico della macchina di Giorgio Russell ma soprattutto senza che ci fosse veramente una situazione tecnica di dire quella è la strada da andare proprio stanno andando molto anche nella messa a punto a tentativi quindi non purtroppo devo concordare con te che questa macchina non è sicuramente un progetto giusto è un progetto che si arrampicano sugli specchi fanno tutto il possibile però è la terza forza e soprattutto distanziata non è in grado al momento in condizioni normali di ottenere il risultato di ieri e soltanto grazie a quello che è successo in gara poi vinceranno magari in Ungheria e verremo smentiti riescono a farci sembrare tutti però mi consolo pensando che sono anche all'interno del box non sanno più cosa aspettarsi perché ripeto sabato pomeriggio c'erano delle facce da funerale nel box Mercedes e lì hanno sottolineato il contributo di Lewis perché ha tenuto su molto il morale del gruppo era molto positivo questo è un lavoro scuro che non viene fuori non arriva sotto i riflettori che fa Hamilton e invece uno di quei ruoli di quei diciamo dei valori aggiunti che ti dà un pilota come lui al carisma per tenerti sul gruppo Giorgio allarghiamo un attimo la nostra analisi tu eri nei box hai avuto modo di vedere le macchine molto da vicino e io sono rimasto incuriosito facendo l'analisi guardando le classifiche McLaren ha portato un pacchetto molto importante di sviluppo tu l'hai addirittura definita negli analisi post qualifica che potrebbe essere una sorta di MCL 36 versione B l'Alfa Tauri ha portato una macchina molto evoluta e se andiamo a vedere i risultati sono fra le grandi delusioni perché la McLaren ha perso il quarto posto ed era pari punti con l'Alpine l'Alpine con una macchina meno evoluta ha fatto decisamente un salto in avanti l'Alfa Tauri addirittura è dispersa fuori dai punti che sta succedendo in questa Formula 1 ha ragione il signor Steiner e lo cito per la seconda volta che è meglio portare eh le le gli aggiornamenti solo quando si conosce perfettamente la macchina perché se no si rischia di eh incasinare tutto quanto e perdersi beh partendo da questa ultima parte vedremo Steiner se sarà contento in Ungheria perché dicono che porteranno un grosso aggiornamento a la AS e vedremo se sarà positivo quanto a le altre due macchine che hai citato McLaren e Alfa Tauri sì c'è da dire grosso pacchetto evidentemente tanto grosso che ha bisogno di essere interpretato capito quando messo in pista evidentemente si è intervenuto tantissimo in tante eh praticamente su tutta la monoposta soprattutto in casa McLaren e evidentemente non è basta non sono bastate le le sessioni di prove per riuscire a capire esattamente tutto addirittura James Keach ha fatto proprio vedere nei dettagli tutte le modifiche soprattutto poi abbiamo anche scherzato sul fatto che le modifiche più importanti si vedono nel fondo nella parte sotto facendogli notare che a Monte Carlo l'avevamo visto benissimo e ovviamente purtroppo per capire com'è cambiato il fondo bisogna aspettare che le macchine vengano sollevate sulle gru al che tanto di scongiuri quando facevamo questo tipo di discorsi però ci ha confermato che proprio nel fondo ci sono le maggiori novità quindi quello che abbiamo visto fuori è già tantissimo quindi pensate se nel fondo le novità sono ancora più importanti di qui il fatto che forse al primo impatto con la pista e non siano riusciti a estrapolare proprio il massimo da questi due progetti. Ecco Giorgio nella chiacchierata con James Keach hai messo in evidenza un aspetto molto interessante di come i progettisti stiano cercando di ripurire la parte dell'engine cover il cofano motore perché riuscendo a stringere quella zona della macchina si riesce a rendere più efficiente non tanto l'alettone posteriore quello è sempre un vantaggio quando c'è meno sezione quanto la capacità di riuscire a rendere maggiormente estrattivo il diffusore posteriore cioè c'è un elemento secondo che contribuisce all'efficienza della macchina e questo concetto forse rende merito a quanto complesse siano queste macchine e quanto è difficile comprenderle. Sì evidentemente è tutto un lavoro scusate è tutto un lavoro diverso da quello che si faceva prima dove praticamente la gran parte della deportanza veniva data dalle ali quindi si cercava di pulire il cofano motore nella zona alta proprio per cercare di rendere più efficiente possibile l'ala posteriore. Adesso invece succede che si cerca di pulire la zona bassa del cofano motore che è quella che manda il flusso d'aria nella zona dei diffusori del beam wing non a caso per esempio la red bull ha introdotto un ulteriore diverso beam wing completamente diverso da quello originale e da quello degli ultimi tempi che faceva gioco soltanto su un elemento del beam wing qui il secondo è stato spostato più in avanti più in alto quindi proprio con un lavoro di sinergia con quello che è proprio la pulitura del flusso in quella zona della macchina e anche le altre due monoposto soprattutto la mclaren ha presentato anche qui novità nella zona del beam wing proprio per questo discorso di lavoro diverso completamente diverso quindi è un modo anche un po di rimparare a settare a capire quello che sono le monoposto di formula 1 in questa generazione che ha fatto fare un salto completamente nel buio si è partiti proprio da un foglio bianco e soltanto adesso si vede si vedono tendenze si vedono situazioni che vanno a non dico a uniformarsi ma andare un po tutti in una certa direzione un'ultima domanda tecnica giorgio poi voglio fare un discorso politico con roberto christian horner si è premurato di dire a roby sabato che la ferrari era più carica e la red bull era in grado di esprimere una velocità in rettilineo maggiore che sarebbe stata una chiave del possibile sorpasso di verstappen sul rettilineo con il drs per 12 giri abbiamo visto un max verstappen che era nella zona drs approvato e riprovato l'idea di avvicinarsi alla ferrari di leclerc ma un vero e proprio sorpasso non è riuscito a farlo eh questo è dato dalla maggiore efficienza della ferrari era più o meno carica la rossa beh sai le ali sono talmente diverse che è difficile eh giudicarle certo che l'ana che ha utilizzato la ferrari che è sempre l'evoluzione di quella introdotta in canada poi soltanto dalle clerche poi invece sposate interamente in in a silverstein di nuovo a zelveg evidentemente garantisce una maggiore efficienza quindi la situazione della velocità di punta in rettilineo della ferrari è migliorata notevolmente con questa nuova soluzione roby eh si sta facendo una grandissima battaglia in pista ma si sta facendo una guerra uso questo termine eh nel paddock la logica è quella dei regolamenti che entrano in azione a spa ma soprattutto direi che per spa si stanno mettendo tutti a posto e non mi sembra di vedere una grande preoccupazione nel veder cambiare eh il valore delle prestazioni delle macchine in funzione delle nuove verifiche del delle tavole però invece c'è una guerriglia in corso per quello che riguarda invece alzare le macchine di 25 mm l'anno prossimo perché vorrebbe dire buttare via i progetti che hanno fatto fino a oggi sulle macchine 23 eh tutti dicono per fare un regalo alla mercedes eh c'è chi dice è un problema legato al budget cap perché abbiamo buttato via soldi che non recuperiamo eh cosa sta succedendo e dove si pensi si possa arrivare ma credo che questo ciclo che appena iniziato con il nuovo presidente eh Mohammed bin Sulayem sia eh finora stato caratterizzato da una mano molto forte da parte della federazione però eh se utilizzi questo approccio devi avere ragione al 100% su tutti i fronti ora le misure di spa ehm alla fine sono state accettate all'inizio non tutti eh però sono state accettate per e e per molti direi per la maggior parte nel paddock sono ritenute risolutive del problema eh se funzioneranno come come promettono non dovrebbe esserci più il problema del poor poisoning ci sarà un saltellamento come quello che abbiamo visto anche in passato in alcune occasioni per questo vengono ritenute un po' eccessive le le misure che ehm eh vogliono introdurre nel 2023 considerando che è vero che siamo a luglio sembra lontano in realtà le squadre sono già nel da mesi nel 2023 con le loro macchine quindi una modifica del genere sarebbe un costo enorme alcune squadre eh avevano valutato di mantenere il telaio di quest'anno quindi di fatto di non andare a riprogettare ex novo un nuovo telaio cosa che invece imporrebbe questa nuova misura quindi c'è da una parte eh motivo che si fa fatica a trovare c'è se la misura introdotta da spa funzionano ripeto il problema dovrebbe essere risolto e su questo una ragione direi le squadre però c'è un fronte eh composto da quattro squadre che sono eh Mercedes Alpine McLare e Anaston Martin che eh supportano quella che è l'iniziativa comunque la volontà della FIA quindi diventa un po' dura io credo Franco che sarà un argomento e uno scontro molto caldo il primo scontro probabilmente che vedrà coinvolto in prima persona eh Binsula IEM vedremo perché eh ci sono è un clima molto caldo nel paddock su questo fronte e gli esiti sono tutt'altro che scontate. Io comincio a sentire in questo clima rovente anche la voglia di qualcuno che ricomincia a parlare di un campionato alternativo al di fuori della FIA. Era qualche anno che non tornava a questo argomento. Sì. Ecco questo è il termometro che qualcosa di grosso c'è in ballo e che comunque ci sono delle tensioni molto elevate. Vedremo che soglia di calore rovente avremo in Ungheria. Ringrazio Roberto Chincaro per aver partecipato a questo report di Formula Uno. Ciao Franco, ciao Giorgio. Ciao Giorgio, ci diamo tutti appuntamento nel tardo pomeriggio per quella che riguarderà la live nella quale saranno coinvolti i nostri eh amici che ci seguono con le loro domande. Ciao a tutti e grazie di aver partecipato. Ciao a tutti. Grazie a tutti.